Un po' di gas, giustamente. Vai! Salve a tutti da SaifonGT e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi proverò un Alfa Romeo Giulietta con motorizzazione 1.4 T-Jet e una preparazione Stage 3 da quasi 300 CV, ma con un'elettronica di serie un po' capricciosa. Scopriamola insieme nei dettagli. Eccola qui questa fantastica Alfa Romeo Giulietta con motorizzazione 1.4 T-Jet, model year 2020. Partiamo subito a spiegare la preparazione meccanica. Abbiamo di base il 4C di turbo benzina 1.4 T-Jet, una turbina TD-04 montata su collettori 4 in 1, un downpipe da 70 mm con linea di scarico da 63 mm, bellissima l'aspirazione diretta con filtro a cono BMC posizionato sulla parte destra del paraurti. Per quanto riguarda il motore, abbiamo un motore di serie dove sono state soltanto sostituite le cams con delle cams di derivazione 500 A. Per quanto riguarda il sistema di alimentazione, sono stati sostituiti gli iniettori con gli iniettori 630 cc. La frizione e il cambio restano di serie. A prima vista sembrerebbe una preparazione abbastanza standardizzata, ma detta del preparatore, il lavoro è tutto qui. Abbiamo un'elettronica Euro 6 veramente ma veramente difficile da mappare, con tantissime problematiche in fase di messa a punto. Con questa preparazione si raggiunge una potenza di circa 300 CV e 370 Nm o più. Ma ora Andrea Palmieri ci spiegherà il lavoro che ha effettuato su questa elettronica Euro 6. Allora con questo nuovo software siamo riusciti a sviluppare l'autovettura secondo le esigenze del cliente. Ossia in base alla pressione turbo, in base alla carburazione, in base logicamente al tipo di turbo che uno ha, tipo di motore, possiamo fare ciò che vogliamo su questa centralina. Siamo arrivati a un punto ottimale da poterci ritenere molto soddisfatti. E ora andiamo a provarla su strada. Andiamo! Ragazzi eccoci qui a bordo di quest'Alfa Romeo Giulietta, model year 2020, prende l'ultima, ultimissima elettronica Euro 6, un po' difficile da mappare ma in questo caso abbiamo raggiunto dopo vari step, come abbiamo detto prima, una potenza di quasi 290 CV e 370 Nm di coppia. Bellissimo il sound allo scarico, abbiamo un cambio a 6 rapporti, simile a quello di punto Abarth ma leggermente migliorato, infatti le marce entrano veramente bene, frizione molto morbida, impianto freante leggermente maggiorato. Certo, un'auto che nasce 120 CV di serie, sotto abbiamo il motore 1.4 T-Jet, di base della 500, con una turbina molto molto piccola perché la IHI che montava di serie su quest'auto era più piccola di quella della 500 Abarth 140-160 CV. Ovviamente è sempre una Giulietta, però con questo 1.4 portato a 290 CV va abbastanza bene. Abbiamo il selettore, ovviamente, delle tre modalità di guida, Dynamic, Natural e All Weather, in questo caso però con la mappa abbiamo una taratura fissa, quindi a controlli disattivati, la macchina va a pressione turbo uguale in tutte e tre le modalità. Aspetto bello, proprio da Alfa Romeo, sound coinvolgente, sicuramente il proprietario è molto contento del sound da quest'auto. E niente, c'è stato un lavoro molto ma molto specifico su questa elettronica Euro 6, molto ben differente rispetto alle precedenti Euro 5 montate su 500 e il grande punto. Il cambio mi piace. Turbo, come abbiamo detto prima, è un ATT04 che va forte. Vediamo un po' di gas, giustamente. Giusti pops and bang perché non vogliamo esagerare ma... Dai, ovviamente la Giulietta è molto ma molto più pesante della 500 e della punto, quindi questi 290 cavalli dobbiamo giustamente confrontarli sul peso dell'auto leggermente superiore perché siamo all'incirca sui 14 quintali. Certo, il motore è il 1.4 piccolino ma il peso dell'autovettura la penalizza un po'. T-T04 che a 3.000 giri va. Mannaggia ragazzi! Parlando dell'erogazione, come avete visto anche nel video, dai 3.000 giri questa T-T04 comincia a spingere fino a ben oltre 6.000 giri, poi abbiamo un allungo del limitatore impostato a oltre 7.000 giri. La cosa che mi piace tantissimo è il cambio, devo dire che gli innesti sono veramente morbidi, abbastanza precisi, una frizione morbida, sentire il turbo. Giusti pops and bang. In precedenza ho provato la Giulietta 1.750 turbo benzina, certo lì c'era una sensazione di coppia maggiore, giustamente anche la cilindrata era superiore, però noto un leggero allungo dopo i 6.000 giri su questa qui. Certo, lì era un turbo originale, qui abbiamo una T-T04. Preparazione ovviamente stage 3, la frizione originale. Sta bene dove sta, non abbiamo slittamenti. In quel caso invece slittava un po' la frizione. Però di seconda. Dai, molto meglio il cambio manuale sulla Giulietta che quello a doppia frizione, quindi Alfa Romeo. Mantenete il cambio manuale. Sentiamo i pops and bang. Dai. C'è una netta differenza, proprio si sente sul peso. Quando ho provato la maggior parte dei 500 Abarth con una preparazione simile a questa, sgommavano tantissimo, mentre questa qui, devo dire, non sgomma, perché certo di seconda, avete visto, è proprio lieve lieve, ma la strada la fa. Quindi, certo, c'è da spostare. Quasi 400 kg in più, quindi rapporto peso-potenza si abbassa. Vedete? Sto praticamente tirando con terza, quarta e quinta marcia. La macchina è molto fluida. Quando vado a pelare il gas è abbastanza pronta. Non abbiamo, vedete, vuoti. Giustamente a motore stock si deve scegliere una turbina da poter sfruttare in tutti i range di utilizzo. Non mettere un tubo troppo grande che è in basso, non puoi dare pressione, altrimenti rompi il motore e in alto neanche. Quindi, un ottimo compromesso su questo turbo. Dai, ragazzi. Veramente, ma veramente soddisfatto. No gas. Tutto, tutto, valla a girare. Tutto, tutto. Come abbiamo detto prima, un'erogazione che, diciamo, si parte dai 3.000 giri, full gas, vedete? Ecco, comincia a caricare il turbo. Abbiamo un barra e sette a motore originale, soprattutto frizione originale e giustamente tutto il contorno adeguato su questa preparazione. Ripeto, un'auto che ci si può divertire tutti i giorni perché è pronta. Regalo emozioni. Anche da appassionato di golf. Quando provo un'auto che mi fa divertire, devo ammetterlo. Per il resto abbiamo un assetto di serie, impianto frenante di serie che giustamente va adeguato perché non è che abbiamo il doppio dei cavalli di più perché da 120 siamo stati a quasi 300, quindi 180 cavalli di incremento su questa Giulietta 1.4 D-Jet. Lo so che potete sentire seconda, terza, quarta. Vai! Dai, con questa preparazione diciamo si prende una macchina con 120 cavalli che è un po' fiacca, tra virgolette. Mette dietro tranquillamente le golf GT mappate perché la macchina va, la possibilità e consuma abbastanza perché si è anche accesa adesso la spia della riserva. Ripeto, il motore originale, il turbo mette il giusto range per avere una buona erogazione bassi e medi regimi, non avere, diciamo, tanto lag in basso perché altrimenti non ti diverti da qui del motore tra virgolette piccolino, la macchina è pesantina, quindi è pronta. Fare sorpassi, seconda marcia scatta proprio subito. Dai! Poi per gli amanti delle Alfa regala emozioni. Sotto avanti abbiamo anche un Alfa Romeo GT giusta risonanza a bordo sentite la mia voce tranquillamente non è molto assordante perché giustamente sulle 500 Abarth abbiamo un'auto più corta meno insonorizzata parità di preparazione stessa linea di scarico macchina più corta molto molto più rimbombate in alcuni casi può dare fastidio però è una Giulietta quindi pensata per un po' più leggermente differente vai 3000 giri schiacciamo tutto fino a 7200 dai l'assetto si sente che ci vuole un piccolo dosso e l'auto certo sarà studiata per gestire 120 cavalli qua ne abbiamo 180 di più full gas anche di quarta dai ottimo lavoro di Andrea Palmieri della Palmieri Racing che ringraziamo sempre per le auto messe a disposizione e tutto il suo staff per i lavori sulla meccanica dai come sempre se il video è piaciuto lasciate tantissimi like e commentate con le vostre opinioni a riguardo un saluto a Stefano GT e ci vediamo al prossimo video a Stefano